Il libro di Enoch racconta che gli angeli ribelli, seguaci di Lucifero, caddero sulla terra e trasmisero agli uomini i fondamenti della magia. I magi divendero i custodi di quella sapienza e la misero per iscritto in un libro dal potere immenso, Luther Ventorum. Molti sono alla ricerca di quel libro, ma solo un uomo saprà sciogliere gli enigmi per trovarlo e accedere al sapere proibito degli angeli. Ma quest'uomo è in fuga da molti anni, inseguito da un potente tribunale segreto. È Ignazio da Toledo. Il mercante di libri maledetti. Un romanzo di Marcello Simoni. L'8 settembre in libreria. Newton Compton Editori. Certe porte devono rimanere chiuse. Un romanzo di Marcello Simoni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.